L'altra volta mi è arrivato questo video qua, guardate Questo video mostra che una persona X ha installato questo filtro anticalcare che noi vendiamo noi in generale negozi di grandi elettrodomestici in maniera errata perché l'ha posizionato l'ha installato tra il tubo di carico della lavatrice e la lavatrice stessa per intenderci il filtro anticalcare è questo qui che è quello che ho mostrato spesso anche nei miei video che ho pubblicizzato una volta ed è un filtro ai magneti che bombarda i cristalli di calcare rendendoli impercettibili così non si attaccano alle pareti della resistenza del vostro elettrodomestico nel caso del video è della lavatrice e come potete vedere l'ha posizionato appunto nel punto sbagliato perché in realtà questo non va posizionato lì, bensì va posizionato appunto tra il rubinetto dell'acqua e il tubo di carico della lavatrice così l'acqua viene filtrata prima che entra poi all'interno della lavatrice o della lavastoviglie questa errata installazione ha causato non poche problematiche al cliente perché ha allagato tutta la cucina e poi c'è stata una perdita in maniera anche di acqua perché chi lo stava installando non sapeva totalmente cosa fare e come procedere e adesso fammi sapere cosa ne pensi del filtro anticalcare e di quello che è successo purtroppo al cliente con l'installazione errata di questo accessorio qui ciao raga